Eh no ragazzi, il titolo di questo video non è uno scherzo, ho ricevuto due PlayStation 5. Quella che ho utilizzato fino ad ora è questa qui. E poi ragazzi, ho ricevuto un'altra PlayStation 5, che andrò ad unboxare con voi. E mentre farò lo spacchettamento, vi andrò a spiegare come è stato possibile questo errore. Perché si tratta di un errore, ma fino ad un certo punto. Ma permettetemi di spiegarvi tutto. Prima, mi raccomando, lasciate un like adesso, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella delle notifiche, anche perché proprio in questi giorni, come avete visto, ci sono tante belle novità per Xenoverse 2. Allora, devo stare attento a non far cadere questa PlayStation 5 e nel frattempo vado ad aprire questa qui. Al momento non ho il mio solito taglierino sottomano, malissimo, però almeno vado a togliere i due sigilli, perché questa PlayStation 5, ragazzi, è proprio nuova e mi è arrivata da pochissimo. Come dovreste ben sapere, magari avete visto il video quando è uscito verso che era novembre, io ho ricevuto direttamente da Sony, che ancora ringrazio, questa PlayStation 5. Quindi si trattava praticamente di una copia stampa della PS5 che viene mandata magari a coloro che, non so, hanno collaborato con PlayStation o in generale, non so, portano titoli PlayStation. Il problema qual è? Era veramente difficilissimo andare a trovare una PlayStation 5 in quel periodo e di conseguenza ero comunque contentissimo perché avevo questa qui a disposizione. Io però avevo dimenticato una cosa interessante, ovvero che io la PlayStation 5, ragazzi, l'avevo comunque preordinata. Preordinata! Eh sì, ragazzi! Questo è il mio controller attuale, per farvi vedere che non è tutto fake, anzi, ragazzi, è tutto vero. E qui c'è il nuovo controller. Eccolo qua, bello nuovo. Quindi, per farvela breve, ragazzi, eccolo qua il secondo controller, questa è la PS5 che io avevo acquistato all'epoca, a novembre, che era... No, io il preordine l'ho fatto, che era, in estate, forse inizio settembre. Quindi, ragazzi, questa è la PlayStation che io avevo acquistato, mentre questa è quella che mi ha inviato Sony. Quindi mi ritrovo adesso con due PlayStation 5. Eccola qua, ragazzi. E badate bene, una cosa che ci tengo a dirvi, questo video non è per far rosicare nessuno, anzi, è quasi l'opposto per dire, guardate che errore ho combinato. D'altra parte, però, vi dico anche un'altra cosa fondamentale. Sono già sicurissimo che in tanti mi state scrivendo nei commenti, ma quindi, Joseph, la seconda vendila, che stai a fare? Addirittura la apri? C'è gente che, online, su eBay e così via, la sta rivendendo al doppio del prezzo, o in generale 800, 900, 1000 euro. Ragazzi, in tutta sincerità, in primis, non mi piace fare queste rivendite dal prezzo così elevato rispetto allo standard. A meno che non si tratti di cose di collezionismo, e lì è tutto un altro discorso. Però invece, in questo caso, vi dirò una cosa, ragazzi. Questa seconda PlayStation 5, io la terrò per me. Per quale motivo? Perché, ragazzuoli? Eccola qua, incredibile. Sembra che si siano sdoppiate. Questa qui la terrò per me, perché la andrò comunque ad utilizzare in un'altra stanza. O in alternativa, la darò a Francesca, per permettere anche a lei di andare a registrare dei video. Anzi, se volete che io gliela regali, lasciate un like adesso. E quindi le due console, in ogni caso, non andrebbero sprecate. Assolutamente, perché come sapete io, con le PlayStation 5, oltre che giocarci normalmente per divertimento, ci lavoro, perché ci registro i video. Quindi, magari in una stanza avrò questa, a Francesca darò quest'altra, o la terrò io, eventualmente, ancora in un'altra stanza, per poterli magari registrare in maniera separata altre tipologie di video. E quindi, in un modo o nell'altro, mi sarà comunque utile. Senza contare che, come cosa aggiuntiva, legge anche Blu-ray, quindi può essere utilizzata anche come piattaforma per andare a vedere, che non so, film e intrattenimento in generale, con tutti quelli che sono i soliti servizi di streaming, di tutti i film ufficiali, chiaramente, che tutti noi utilizziamo giorno dopo giorno. Quindi, ragazzi, eccole qua. Le due PlayStation 5, che praticamente adesso si ritroveranno entrambe, non so se sulla mia scrivania, una sulla mia scrivania e una sulla di Francesca, ma questa era solo la parte iniziale dell'unboxing, perché ho anche altre cosucce da farvi vedere. Di recente, infatti, ragazzuoli, ho ricevuto Naruto Color Edition. Di cosa si tratta? Beh, ragazzi, è una nuova, intera collezione del manga di Naruto, e si tratta di tutti e 72 i volumi di Naruto a colori. Ed è una cosa veramente spaziale. Come sapete, io sto facendo l'intera collezione di Dragon Ball Full Color, che in realtà è ormai conclusa. Non appena uscirà per Dragon Ball Super, prenderò chiaramente anche quella, e avrei voluto fare anche un po' questa collezione dedicata a Naruto. Vi dico che io ho già letto tutto Naruto fino al numero 72, e rileggerlo ora a colori è un'emozione incredibile. Trovate tutto in edicola, ragazzi, insieme alla Gazzetta dello Sport. Andate a dare un'occhiata in edicola. Adesso dovremmo essere intorno al volume numero 10. Se non sbaglio ne esce uno a settimana. E vi dico, ragazzi, date un'occhiata a questa edizione, perché è veramente molto particolare. Devo inclinare un pochettino il manga, sperando che riusciate a vedere un pochettino tutti i colori. Ed è veramente eccezionale. E il prezzo, vediamo un po', è 5,99 euro. Nemmeno troppo, troppo elevato per avere il volume di Naruto, un volume a colori. Guardate che tavole, ragazzi, veramente spettacolari. Io devo essere sincero, il mio manga per eccellenza è Dragon Ball, ma Naruto l'ho apprezzato veramente tanto. Ci sono anche in questo caso molti alti, molti bassi, però vi dico, ragazzi, se volete questa edizione, correte in edicola. Datevi un'occhiata. Magari visitate anche il sito della Gazzetta dello Sport, perché lì dovreste già trovare qualcosina tra i vari volumi a disposizione. E se non sbaglio, si può acquistare anche l'intera collezione, che poi vi verrà inviata un po' alla volta direttamente a casa. C'è poco da fare, ragazzi. Qualcuno vuole davvero che io faccia le faccende di casa in ogni unboxing ormai. Tant'è vero che qui abbiamo una base di ricarica per quello che è il Rodme Eve Plus. Si tratta di un robot che va a pulire tutto il pavimento. Ed eccolo qua, ragazzi. Cioè, non ci sta niente da fare. Devo per forza svolgere tutte le faccende di casa. Francesca probabilmente vuole lavarsene completamente le mani e vuole farlo fare direttamente al robot. E poi dovrò fare io qualcosa. Però ci sta, almeno ci si divide il lavoro anche in casa. Quindi, ragazzoli, eccolo qua. Robot Vacuum and Mop Cleaner. Si tratta praticamente proprio di quel robot che viaggia in giro direttamente per casa e riesce a pulire quella che è l'intera casa andandola addirittura a mappare. Cioè, quindi, per farvela facile, va a comprendere tramite l'intelligenza artificiale, tutte quelle robe lì, tutta la mappa della casa e comprende su quali zone è già passato, su quali zone non è ancora passato. Adesso voglio andarlo a vedere perché questo, ragazzi, è molto utile. Inutile dire, ragazzi, che in descrizione vi lascerò il link per andarlo ad acquistare, il prezzo e tutte cose che vi possono servire. Tanto ormai, ragazzi, l'ho capito, sono diventato un, non so, un rappresentante di ste cose. Andiamola a togliere dalla sua confezione. Questo, ragazzi, è qualcosa di veramente molto, molto utile perché in casa prima o poi l'avrei preso. Quindi riesce addirittura a mappare con dei sensori tutto in 3D. L'appartamento è una cosa veramente assurda. Ed eccola qui la base di ricarica, che non è solo base di ricarica, ma anche base in cui si va ad accumulare tutto lo sporco che va a raccogliere direttamente lui. Ed è una cosa ottima perché non si deve svuotare continuamente il sacchetto. Qua c'è addirittura il display che ti va ad indicare tutte quelle che sono le varie cosucce per dirti se il sacchetto è pieno oppure no. Va ad incastro direttamente in questo modo, ci entra alla perfezione e si fa il tutto. Ragazzuoli, vi lascio il link qua sotto in descrizione nel caso in cui vi possa servire. Vi vorrei lasciare in descrizione anche le PS5, sperando che tornino disponibili a breve, però vedo che ogni tanto su Amazon e anche altri siti ritornano disponibili. Ripeto, so che molti già me lo stanno chiedendo, la seconda non la vendo, me la tengo, perché mi può essere sempre utile. Fai che magari la mia si rompe e ho bisogno di un ricambio, non la troverò mai e di conseguenza c'ho già un'eventuale altra PlayStation che ho comprato proprio io direttamente. Ragazzuoli, io vi saluto, ci becchiamo ad un prossimo video, in questi giorni stanno arrivando tanti bei video di Xenoverse 2 e non solo, quindi alla prossima, ciao!